OMEGA WHITE GONG E finisce tutto ad aprile Dare il 100% non agire in modo guerile Prenderla più seriamente e velocemente farla finire Adesso tocca il buonsenso e provare a non impazzire Prendi del tempo per te, tipo prova a imparare qualcosa Leggi di qualche buon libro, vedi un film o una serie nuova Vedi che del buono c'è, così almeno si argina la cosa Prevenire lo sai pure te, è sempre una scelta buona Niente parti, nessuna riunione Ma con Skype e Wi-Fi vuoi beccare tutti Hashtag resto a casa, è una scelta saggia Perché con la calma si sta più tranquilli Non ci voleva ma cosa vuoi farsi Ogni tanto ci stanno momenti...